Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro quel video. Aravindan Balakrishnan nasce il 16 luglio del 1940 a Kerala in India e trascorre qui la maggior parte dell'infanzia. Poi, all'età di 10 anni, per motivi legati al lavoro del padre, si trasferisce a Singapore. Aravindan è molto intelligente, ma per sua madre le sue capacità vanno ben oltre e addirittura fanno paura. Secondo lei il figlio è dotato di poteri soprannaturali ed è posseduto dall'occulto. Glielo ripete fin da quando era piccolo e la sua convinzione deriva dal comportamento del ragazzo che imprica spesso e maledice coloro che lo fanno arrabbiare. Onestamente, dubito che i segnali di una possessione possano manifestarsi attraverso queste azioni che mi sembrano più inerenti nell'ambito della maleducazione. Ma proseguiamo. In ogni caso, Aravindan si sente ripetere queste parole così spesso che finisce per crederci. A parte queste informazioni, non si sa altro sull'infanzia o sull'adolescenza di Aravindan. Quindi facciamo un salto avanti nel tempo, fino al 1965. Aravindan ora ha 25 anni ed è giunto per la prima volta nel Regno Unito, a Londra, grazie a una borsa di studio. Inizia a frequentare l'università e si butta a capofitto nella politica scolastica. Teme che il Regno Unito si stia trasformando in quello che lui definisce uno Stato fascista e di contro inizia a credere nel comunismo radicale. A mio avviso, lo studente è un po' confuso. Dubito che le sue convinzioni siano ben ponderate. La sua è soprattutto una lotta contro le istituzioni, odia le autorità e sottostara gli ordini. Crede che il governo britannico sia troppo autoritario e oppressivo e che occorra una rivoluzione per ristabilire gli equilibri. Durante tutti gli anni 70 Aravindan porta avanti la sua idea distribuendo volantini e predicando per strada. Viene coinvolto in diverse proteste che hanno come risvolto scontri con la polizia, aderisce ad alcune organizzazioni politiche. Ma le sue opinioni sono così estreme che queste organizzazioni, già estreme per la loro stessa natura, lo espellono. Parlava di preparare la popolazione britannica alla liberazione da parte dei cinesi. Tuttavia Aravindan non si dà per vinto. Se le sue idee non piacciono a queste organizzazioni, allora ne creerà una lui. È il 1976 Aravindan pone le basi per fondare la propria setta di ispirazione maoista che decide di chiamare il culto dell'istituto operaio. Riesce a trovare 25 seguaci e tutti insieme distribuiscono volantini in giro o provano a parlare con più persone possibili col fine di reclutarle. Il prossimo passo è allestire un quartier generale in un vecchio edificio al centro di Brixton. Tutti i seguaci della setta si stabiliscono in questo istituto maoista e sono soliti dormire per terra. D'ora in poi l'uomo chiede a tutti di farsi chiamare compagno Bala. Per il momento Bala esige il rispetto di una regola. Gli uomini e le donne devono dormire in stanze diverse e a nessuno è permesso di avere rapporti intimi. Tranne Bala ovviamente. Lui può intrattenersi con chiunque voglia. Questa comune diventa un vero incuo per i vicini. Infatti i suoi membri si dimostrano ostili, polemici e sprezzanti con chiunque non abbia le loro stesse convinzioni. In un'occasione un vicino di casa decide di organizzare una piccola festa in giardino e fare un barbecue. Chiaramente c'è un po' di baccano ma Bala ha una reazione eccessiva a dir poco. Afferra una mannaia e fa irruzione a casa del vicino. Appena entra trova un uomo in piedi sulle scale appoggiato alla ringhiera e Bala brandisce la mannaia per colpirlo al braccio. Fortunatamente l'uomo si sposta in tempo così la mannaia resta incastrata nella ringhiera. L'uomo in questione chiama la polizia per raccontare l'aggressione che ha subito e Bala viene arrestato e condotto in prigione dove rimane per due mesi. Appena viene rilasciato i suoi seguaci si rendono conto che è ancora più irritato. Il suo odio verso lo stato britannico ora esplode. Bala riprende a diffondere con più foga le sue convinzioni sottolineando che il governo l'aveva incastrato. Viene arrestato una seconda volta e durante il processo in tribunale non presta la minima attenzione a ciò che sta accadendo piuttosto è occupato a recitare queste parole a ripetizione. Morte allo stato fascista britannico vittoria per la rivoluzione mondiale. Nel momento in cui esce di prigione per la seconda volta decide che non avrebbe più rischiato di finire in galera. Conclude così che non può mostrarsi in pubblico e distribuire volantini in giro pensa che il posto ideale per nascondersi sia sottoterra. Manca poco all'avvento degli anni 80 e l'istituto occupato da Bala e seguaci viene perquisito dalla polizia ai sensi della legge sull'uso improprio di sostanze. Bala considera questa mossa un'ulteriore persecuzione e in lui si rafforzano le intenzioni di isolamento. Quando il gruppo sta per trasferirsi in una casa concessa dal consiglio locale sempre a Brixton Bala manifesta i suoi nuovi piani. Dice a tutti i seguaci che devono assolutamente sparire dalla circolazione per proteggersi dallo stato spiega che non c'è altra scelta devono recidere tutti i legami con amici e familiari e uscire da casa il meno possibile. A questa notizia molti membri fanno un passo indietro e Bala permette loro di andarsene. Tuttavia otto donne decidono di rimanere al suo fianco pronte a trasferirsi nella nuova abitazione. Tra loro c'è innanzitutto la moglie tanzaniana di Bala, Chanda, sua devota e leale seguace dell'organizzazione. Anche la sorella di Chanda, una donna disabile di nome Shobna, è un membro della setta che probabilmente vi ha aderito per la necessità di essere accudita dalla sorella e non perché condivida le scelte di Bala. Infine ci sono altre sei donne, Sean Davis laureata in giurisprudenza, Josie talentuosa violinista, Aisha che studia rilevamento quantitativo poi Lian, Cindy e Oh. Vi chiederete come queste persone possano sopravvivere senza uscire e dedicarsi al lavoro? Ebbene prima sfrutteranno i soldi di Sean, poi l'indennità che Chanda riceve dallo Stato come badante di sua sorella. Sean è una delle seguaci più attive, ha incontrato Bala per la prima volta durante l'università, all'età di circa 20 anni. All'epoca è una ragazza estremamente dotata ma si sente persa, disillusa dalla vita. Desidera con tutta se stessa affidarsi a qualcuno che la guidi prendendola sotto la propria ala protettrice. È in questa fase critica quando conosce Bala e se ne innamora follemente. Sean crede nei suoi messaggi, alle sue convinzioni e taglia completamente i legami con amici e parenti diventando la seguace più devota della setta. Le altre ragazze hanno un passato simile a quello di Sean, incontrano Bala all'età di 20 anni mentre frequentano l'università e tutte quante sono un po' disorientate, non sanno chiaramente che indirizzo dare alle proprie vite e desiderano che qualcuno indichi loro la strada giusta. Una di queste ragazze proprio per entrare nella setta decide di rinunciare a un fidanzamento ufficiale. Quindi tutte queste seguaci fanno le valigie, dicono addio alla loro vita e si trasferiscono nella casa Brixton. In sintesi ciò che queste donne avevano in comune, a parte l'intelligenza e la prospettiva di un futuro brillante, era una certa vulnerabilità. Erano sole, lontane da casa, avevano problemi familiari. Bala dice continuamente alle sue seguaci che quelli che vivono fuori dalla casa sono nemici, membri del malvagio stato britannico. Il gruppo ora definito collettivo ha bisogno di nascondersi dal governo per condurre una rivoluzione. Queste donne sono piene di speranza e ottimismo, pendono dalle labbra del loro leader che le induce alla mentalità del noi contro il mondo. Ora sentono di avere un'identità e uno scopo, ma le dinamiche che regolano la loro vita in qualità di suddite di Bala sono destinate a peggiorare. Lui si ritiene l'essere più forte, il più grande e quindi meritevole di obbedienza. Inizia a raccontare al collettivo storie sempre più estreme su quanto sia potente, addirittura onnipotente. Giorno dopo giorno le adepte subiscono un vero e proprio lavaggio del cervello. Bala le manipola, le fa credere che abbia davvero dei poteri soprannaturali. Il passo successivo è rivelare a queste donne di essere Dio in persona, il sovrano segreto del mondo. Dato che lo stato britannico vuole catturarlo, Bala deve agire in segreto per arrivare a governare il mondo. Ancora dice alle sue seguaci di possedere il potere di controllare le loro menti e addirittura che è in grado di causare terremoti e temporali semplicemente schioccando le dita. Ogni guerra della storia, immaginate un po', era scoppiata a causa sua. Ma non è finita qui. Bala si ritiene irresponsabile della scissione dell'atomo e dello sbarco sulla luna. Era grazie a lui se queste scoperte erano state possibili. In realtà Bala rivela di aver giovato di un aiuto, quello di Jackie, che però non è una persona reale ma una macchina onnipotente, un computer invisibile che soltanto lui può vedere e controllare. Il suo nome è un acronimo per riferirsi a varie divinità, Jehovah, Allah, Cristo, Krishna e immortale Eshwaran. Jackie dunque può fare qualsiasi cosa, da quelle più banali come accendere la luce o un bollitore a quelle più estreme come causare la morte di una persona o distruggere un'intera città. È sufficiente che Bala schiocchi le dita affinché la macchina agisca. Tutto ciò che accadeva fuori poteva essere utilizzato per dimostrare il potere di Bala e Jackie. Quando ad esempio nel 1986 la navetta spaziale americana Challenger esplode, era stato un segno. La gente lo stava sfidando. Le sue seguaci ormai in balia dei vaneggiamenti del leader credono a questa assurdità. A un certo punto Chanda, la moglie dell'uomo, si ammala gravemente ed è costretta a un lungo ricovero in ospedale. Di conseguenza Bala resta in casa con altre sette donne, dalle quali pretende di avere dei rapporti intimi. Non importa che loro non acconsentano, lui se provano a rifiutarsi le minaccia, preannuncia che le avrebbe uccise colpendole alla gola. Le costringe anche a compiere atti umilianti e degradanti per compiacerlo. Non entro nei particolari perché, credetemi, sarebbe disgustoso per voi e anche inaccettabile per YouTube. Dunque ogni giorno queste sette donne subiscono violenze e umiliazioni. Addirittura Bala definisce un programma per compiere l'aggressione nel momento che più gli aggrada e lo scrive su un muro. Segna il nome della donna di cui si vuole approfittare in corrispondenza delle ore e dei giorni precisi di modo che le adepte lo sappiano già. Anche quando sua moglie torna a casa dall'ospedale gli abusi non cessano. Chanda tuttavia all'inizio non è a conoscenza perché Bala, quando vuole intrattenersi con le altre donne, convince la moglie a uscire di casa con la scusa che deve sbrigare qualche commissione. E questo è un controsenso. Se ricordate i membri del collettivo dovrebbero uscire di casa almeno possibile. Purtroppo la moglie di questo leader nauseabondo neanche ci riflette. Esegue semplicemente i suoi ordini perché lui è un essere superiore. È Dio. Può decidere di far scoppiare una guerra o scatenare un terremoto in uno schiocco di dita. Questa situazione purtroppo prosegue per anni. Una delle donne coinvolte testimonierà di aver subito abusi una volta a settimana per sei lunghi anni. Le adepte hanno continuato ad assecondare il leader in quanto convinte che lui fosse in grado di ucciderle col pensiero. Magari scagliando Jackie contro di loro. Proprio a causa di questi abusi una delle donne rimane incinta. Ossia Shawn. La piccola Prem Mao Pinduzzi che si traduce in rivoluzione dell'amore nasce e cresce in questa follesetta in base alle direttive dell'insano progetto Prem ideato da Bala. D'ora in poi però chiamerò Prem con un nome diverso da quello che le è stato dato alla nascita. Cioè con il nome che ha scelto lei stessa successivamente. Katie. Anche per Katie come accennato Bala ha assurdi progetti. Vuole che la figlia cresca senza percepire l'amore. Senza una famiglia calorosa attorno e ovviamente in isolamento. Lontana da influenze esterne. Così da rimanere pura e al sicuro dalle cattive intenzioni dello stato britannico. L'uomo non vuole permettere che Katie diventi tenera e dolce. Quindi impone che non le venga dimostrata alcuna forma di affetto. Impedisce alla bambina di avere qualsiasi contatto umano e anche di sapere chi siano i suoi genitori. Bala e Shawn infatti non le dicono che è figlia loro. E nemmeno le altre donne del gruppo glielo rivelano. Per ordine del leader. Katie deve essere cresciuta collettivamente. Inoltre tutte avrebbero dovuto convincersi che Katie era stata portata in casa da Jackie. Cioè dal computer invisibile che solo Bala può vedere. Quello che Katie deve subire è davvero vergognoso. Non viene mai confortata. Non viene mai aiutata. Non riceve attenzioni. Nulla. Fin da quando è neonata se piange. Il gruppo deve ignorarla. Poi se piange troppo Bala perde la pazienza e le mette le mani addosso. È davvero triste immaginare una vita del genere. Anche se il gruppo nutre Katie, la fa stare al caldo, la tiene pulita. È comunque una bambina abbandonata a se stessa perché nessuno le mostra amore, né le parla, né gioca con lei. Non riceve mai e dico mai un abbraccio o un gesto di conforto. E un bambino ha bisogno di tutto questo da parte di chi si prende cura di lui. Ha bisogno di stabilire dei contatti umani. Come se ciò non bastasse dopo il ricovero di Cianda né a Katie né alle donne del gruppo è consentito di farsi visitare da un dottore. Quando col tempo tutte le seguaci della comune cominciano ad accusare problemi ai denti, sono costrette a perderli. Non importa quanto dolore provino. Non possono andare all'ospedale o vedere un medico perché Bala disprezza la medicina occidentale. In sostanza, se qualcuno si ammala gravemente, la soluzione di Bala consiste nell'esortarla a meditare e a concentrarsi su di lui. Ogni donna deve dedicare la propria mente a Bala, pensare soltanto a lui. A quel punto lo stato di salute di tutte loro sarebbe migliorato. In caso contrario significava che non erano abbastanza o correttamente concentrate. Proprio a causa di questa imposizione, Katie e molti altri membri del gruppo si ritrovano ad avere seri problemi di salute non diagnosticati e non trattati. A questo si aggiunge la decisione che Katie non potrà mai uscire di casa. Quindi andare a scuola o in bicicletta, correre, giocare o divertirsi in alcun modo. Katie è completamente isolata. Bala è l'unica persona a cui deve obbedire. Quando la bambina cresce abbastanza da riuscire a camminare e parlare, l'uomo teme che possa scappare. Ma in realtà, siccome ha fatto anche a lei il lavaggio del cervello, Katie è terrorizzata la sola idea di fuggire. Il leader le ha detto che lei rappresenta un obiettivo ad alta priorità per lo stato britannico, che vuole catturarla e ucciderla. Tutti coloro al di fuori di quella casa collaborano con il governo, quindi non può fidarsi di nessuno. Ci sono delle rare occasioni in cui a Katie quantomeno è permesso di stare nel giardino sul retro. Un giorno un bambino che abita vicino a lei la nota e inizia a salutarla. Katie in risposta gli fa ciao ciao con la manina affinché due donne della setta si precipitano in giardino, la prendono in braccio e la riportano dentro casa in tutta fretta. Con fare aggressivo le due chiedono a Katie cosa stesse facendo. Non può salutare degli sconosciuti. Quel bambino, indovinate un po', sarebbe un membro dello stato britannico mandato dai suoi malvagi nonni per catturarli e ucciderli. Katie che ora ha circa quattro anni si fida degli adulti che la circondano, come ovvio che sia. Questo terrorismo psicologico la porta a fare degli orribili incubi durante la notte, convinta che chiunque viva al di fuori di casa sua voglia ucciderla. Da questo momento in poi Katie non viene più lasciata sola. A turno le donne della setta vigilano su di lei tutti i giorni, 24 ore su 24, quando si reca in giardino, persino quando va al bagno e di notte. Infatti una delle seguaci deve stendersi a dormire a fianco a lei. Inoltre le viene detto che non deve mettersi a guardare fuori dalle finestre, perché se mai qualcuno l'avesse avvistata, l'avrebbe poi catturata. Anche se avesse sollevato il telefono dall'altra parte della cornetta ci sarebbe stato un nemico che l'avrebbe uccisa tramite delle onde elettroniche. E se avesse mai messo piede fuori dalla porta d'ingresso sarebbe andata incontro a quella che Bala chiama combustione umana spontanea. È una perfidia quanto un'assurdità, lo so, ma lo sgradevole reader è riuscito a convincere le sue adepte, di essere in grado di farle esplodere spontaneamente. Anche Katie ovviamente ci crede, lei più di tutte non conosce il mondo, non conosce altre persone al di fuori del leader, della setta e delle sue seguaci. Non si è mai confrontata con qualcuno estraneo a questo contesto. E come farebbe ogni altro bambino, crede agli insegnamenti trasmessi dagli adulti intorno a lei. Nella testa di una bambina così piccola dilagano il terrore dei concetti assurdi sulla morte e la paura di fare qualsiasi cosa, anche camminare, perché la sua sopravvivenza è sempre a rischio. All'età di 4 anni Katie si ammala, sta molto male e vomita, c'è chiaramente qualcosa che non va. Il mostruoso Bala però si infuria, le ripete che deve meditare e concentrarsi su di lui, così guarirà. Ma Katie probabilmente ha un virus intestinale, la meditazione non funziona e la bambina sta sempre peggio. Secondo Bala, la colpa è ancora di Katie perché non sta meditando abbastanza, non si sta concentrando abbastanza. Quindi, come punizione, la prende per i capelli e la trascina in tutta la casa, la scaglia sul pavimento vicino alla porta d'ingresso e inizia a prenderla a calci e a pestarle la testa. Questa violenza però non basta, il leader la afferra, apre la porta, sbatte la bimba fuori di casa e si chiude dentro. Tolorante e spaventata, Katie si ritrova all'esterno e da sola per la prima volta. Ha soltanto quattro anni ed è convinta che qualcuno stia per ucciderla. Ora che ha avarcato la soglia di casa, come le hanno sempre detto, la sale è un terribile attacco di panico ma nonostante sia ammalata e ferita che ti trova la forza di urlare, di alzarsi e di battere i pugni contro la porta con tutta l'energia che ha ancora in sé. Vuole convincere i suoi oppressori a farla rientrare in casa. Finalmente, dopo qualche minuto, il leader apre la porta e accetta la sua disperata richiesta, disposto a mostrarle misericordia e a perdonarla per quello che ha fatto questa volta. Quanto alle donne del collettivo, queste seguono un programma molto rigido ideato dal leader. Bala dà loro il compito di frequentare delle lezioni quotidiane tenute da lui e tutte le partecipanti devono restare in piedi mantenendo sempre il contatto visivo con l'uomo. Se qualcuna di loro si siede o distoglie lo sguardo, viene picchiata da Bala. Durante queste lezioni il collettivo è costretto a recitare la verità del leader, a ripetere più volte e per ore frasi come Bala è Dio, Bala è conoscenza, la conoscenza è Bala e altre assurdità simili. Anche i lavori domestici sono attentamente programmati. Le donne della setta devono svolgerli a turno mentre il leader non vuole neanche un dito. Tutti i pasti richiesti sono preventivamente organizzati e le adepte devono prepararli affinché si mangi sempre alla stessa ora, ogni giorno, al leader spetta di consumare la prima porzione. Mentre si mangia bisogna stare in silenzio, nessuno può parlare. Il leader arriva a prestabilire fino anche il sonnellino pomeridiano di ogni giorno. Quando decide di andare a riposare pure tutte le altre devono farlo. Quanto al bagno è imperativo che una donna della comune debba regolare in tempo l'acqua della doccia per il suo leader. Anzi è un grande onore essere scelta per questo compito. Quando Bala finisce di lavarsi un'altra donna è addetta a chiudere il soffione e anche questo è un grande onore. Ci sono soltanto due giorni da considerare importanti durante tutto l'anno, il 16 luglio e il 16 ottobre, due anniversari che vanno celebrati con una grande festa. Perché? Beh, il 16 luglio è il compleanno del leader mentre il 16 ottobre è la data del suo concepimento. Ogni giorno il collettivo si riunisce anche per cantare delle canzoni di lode per Bala che lui stesso ha scritto per celebrare la propria esistenza. Se qualcuna sbaglia anche soltanto una parola o perde il ritmo viene punita con schiaffi e pugni, gesti violenti che sono una costante nell'ambiente della comune. La piccola Katie quasi tutti i giorni vede le donne della setta che perdono sangue dal naso o dalle orecchie. Queste percosse possono essere causate da qualsiasi cosa. Come detto, si verificano anche se un adepta rompe il contatto visivo con il leader. Pensate che le donne vengono punite anche se si rivolgono dei complimenti a vicenda. Un giorno una seguace dice a un'altra che le piacciono molto i suoi capelli e il leader le picchia entrambe selvaggiamente. La cosa peggiore è che queste regole vengono cambiate quotidianamente, quindi le donne della setta e Katie vivono nella paura di infrangere una direttiva che neanche hanno avuto il tempo di apprendere. Tutte in quella casa sperimentano una paura costante. Quando il leader aggredisce una donna del collettivo nessuna deve intervenire o verrà punita anche lei e il pestaggio sarà dieci volte più duro. Il risvolto più infelice di queste dinamiche è che le donne del collettivo si spiano a vicenda proprio per ingraziarsi il leader. Si rivoltano l'una contro l'altra, sono gelose tra loro e arrivano a odiarsi perché tutte vogliono diventare la preferita di Bala. Quindi hanno paura di lui ma anche delle compagne, tranne Katie che non ha mai denunciato nessuna per aver infranto le regole. Tuttavia le norme che deve seguire lei sono ancora più dure. La bambina indossa sempre abiti larghi e malmessi, è costretta a tagliare spesso i capelli per mantenerli molto corti, non può fantasticare, non può ridacchiare. In pratica non le viene permesso di avere un'identità. Se Katie infrange una di queste regole come immaginerete viene percossa dal leader. Talvolta il perfido uomo utilizza degli oggetti per punirla come un righello, un cucchiaio di legno, delle scarpe o delle pantofole. Anche se la maggior parte delle volte lo fa a mani nude e non si ferma finché non gli fanno male i palmi. Solo a quel punto si arresta, guarda Katie e le dice guarda cosa hai fatto alle mie mani. Per confonderla e ingannarla le dice che i lividi che le lascia sul corpo sono un segno del suo amore. La persona che più volte fa la spia dicendo a Bala che Katie non ha seguito le regole, indovinate un po', è proprio Sean, sua madre. La donna se ne sta lì in piedi e guarda il leader punire ferocemente sua figlia. Quando Katie sta di nuovo male e vomita Sean la obbliga a mangiare il suo rigurgito come forma di punizione. Comprensibilmente Katie inizia a nutrire un odio profondo verso di lei e come detto ignora che quella donna cattiva sia sua madre. Una volta diventata adolescente Katie si annoia terribilmente, non ha mai niente da fare, non può neanche parlare con le donne della setta. Riuscite a immaginare il suo senso di solitudine? La ragazzina si ritrova a parlare con gli oggetti di casa. Da questo momento in poi il gruppo si trasferisce spesso principalmente per evitare di essere scoperto, anche se i vicini a volte scambiano i membri per dei rifugiati e li trattano con indifferenza. Per Katie e le seguaci della setta ogni giorno si ripete all'infinito. Tutte devono rispettare lo stesso programma sviluppato in dieci passaggi. Numero 1. Lezioni. 2. Cantare. 3. Preparare il cibo e mangiare. 4. Pisolino pomeridiano. 5. Doccia. 6. Studio. 7. Discutere con Sean, la preferita, per sapere se sono state brave soltatesse. 8. Preparare la cena. 9. Servire il pasto al leader. 10. Altre azioni. Anche le pause per andare al bagno perché ti sono limitate a 1 o 2 minuti. Lo capisco. So che vi state chiedendo perché nessuna donna in tutti questi anni abbia mai provato ad andarsene. In realtà, c'è da dirlo, un paio di loro lo hanno fatto. Una mattina l'Ien, da sempre presente nel collettivo, si alza e dice, io me ne vado. Ciao amici. Questa affermazione non piace affatto al leader che ordina alle altre adepte di tenere ferma l'Ien, mentre lui la picchia selvaggiamente. Nonostante questa brutale esperienza, l'Ien non si arrende, vuole scappare e ora sa che deve farlo in gran segreto. È il 1988 quando riesce davvero a evadere da quella casa delle torture, ad arrivare da Londra a Southampton. Tuttavia, appena giunta a Southampton, si perde. Non ha idea di cosa fare, ha trascorso così tanti anni nella setta da non sapere come comportarsi nel mondo reale. Quindi, tristemente sconfitta, telefona al leader, gli chiede perdono e lo prega di riaccoglierla. Ba l'accetta, l'Ien torna a casa e vi rimane per un altro anno. Poi, nel 1989, scappa di nuovo e da allora non è più tornata. Tre anni dopo, nel 1992, è Cindy che tenta la fuga. È stata punita così duramente nel corso degli anni di aver perso completamente l'udito da un orecchio. Un giorno, esattamente come l'Ien, decide che ne ha abbastanza, scappa e non torna mai più indietro. Visto che due adepte della setta sono riuscite ad allontanarsi, le altre si chiedono quanto sia davvero potente Bala. Il leader, per così tanti anni, aveva predicato di poter uccidere chiunque con la forza del pensiero. Allora, perché non era riuscito a fermare l'Ien e Cindy? Forse aveva perso i suoi poteri? Quanto è forte ora Bala? Dopo anni di manipolazioni e lavaggi del cervello, Sean inizia ad aprire gli occhi. È dicembre del 1996, Katie ha 14 anni e sua madre sta iniziando a capire quante cavolate le aveva detto Bala in tutti quegli anni. Sean adesso lo vede per ciò che è realmente. Nota tutte le contraddizioni dei suoi insegnamenti, dunque un giorno va da lui e gli dice, se sei mortale, se sei Dio, perché stai invecchiando? Chiaramente Bala non prende bene questa considerazione e ne mette le mani addosso. In un'occasione Katie trova Sean legata e imbavagliata. Il leader le dice che ha dovuto intrappolarla perché Sean aveva cercato di scappare. Poche ore dopo le acque si calmano, Bala libera Sean e vanno tutti a letto. Ma il giorno successivo Katie sente delle urla provenire dal giardino sul retro. Si precipita fuori e vede Sean riversa sul cemento. La donna è caduta dalla finestra del bagno del piano superiore. Il collo è rotto e perde molto sangue alla testa. Il leader chiede a qualcuno di chiamare un'ambulanza, poi dice alle altre donne di non toccare Sean perché se lasciano delle impronte sul suo corpo la polizia potrebbe ipotizzare che l'avevano spinta. Sean viene portata ad urgenza in ospedale. I dottori si prendono cura di lei ma, ahimè, la donna si ritrova paralizzata dal collo in giù. Sean rimane in ospedale per mesi e Katie scopre che lei è sua madre perché trova il proprio certificato di nascita. Bala racconta a Katie che quel documento è falso ma Katie ormai ha 14 anni. Non è né una bambina né una stupida e non crede più a tutto ciò che il leader le dice. Sta iniziando in effetti a nutrire dei sospetti. Sean come detto in ospedale ma Katie teme che non l'avrebbe mai più rivista. Sorprendentemente alla ragazzina viene permesso di andare a trovare Sean in ospedale. Quando la visita termina, proprio ora che deve andare via, Katie trova il coraggio di dirle ciao ciao mamma. Sean le risponde ciao ciao tesoro mio e per la prima volta Katie dal suo sguardo percepisce affetto, amore. Adesso Katie ha un sacco di domande che le frullano in testa, vorrebbe trattenersi per porle a Sean ma purtroppo viene accompagnata fuori dalla stanza. Katie ahimè non fa in tempo a dirle altro e infatti cinque giorni dopo la donna entra in coma poi viene a mancare. La polizia investiga sulla morte di Sean ma siccome la donna è rimasta in ospedale per sette mesi ed è passato tanto tempo da quando si era gravemente ferita risulta impossibile determinare se avesse saltato dalla finestra o se fosse stata spinta. Alla fine la morte della donna viene valutata come un incidente. Quattro anni dopo la seguace di nome O cade in cucina, batte la testa e si ferisce gravemente quindi prega Bala di permetterle di farsi visitare da un medico ma il leader si rifiuta di accontentare la sua richiesta. Il giorno dopo purtroppo la donna muore colpita da un ictus provocato proprio dalle lesioni riportate a causa della caduta. La sua morte viene classificata come naturale e non viene condotta a alcuna indagine dalla polizia. Altri anni passano, ormai Katie ha 20 anni e inizia a mettere in discussione l'intero mondo attorno a lei. A questo punto alla ragazza viene concesso di dedicarsi a un solo passatempo, ossia leggere. Le danno da prima una serie limitata di libri che lei divora. Scopre così che ama follemente leggere e siccome non ha molta scelta legge qualsiasi cosa le capiti tra le mani. Questa è la sua unica possibilità di fuggire anche solo con la mente dalla prigione in cui si ritrova. Il leader le permette di leggere la saga di Harry Potter e quella del Signore degli Anelli proprio perché lui si identifica con i personaggi di Harry e Aragorn. In realtà leggendo le due saghe Katie si rende conto che Bala è molto più simile a Voldemort e a Sauron. I libri la spingono a mettere in discussione il leader almeno nella sua testa. Le spalancano le porte di un mondo nuovo. Katie decide che non vuole più far parte di quella setta. All'età di 22 anni scappa per la prima volta dalla porta sul retro e il leader l'essere onnipotente il dio non se ne accorge neanche. Forse era troppo occupato a fare il pisolino pomeridiano. Katie chiariamo è comunque terrorizzata dal mondo esterno non lo conosce ma sa che tutti i suoi abitanti sono cattivi e intendono farle del male. Disorientata si imbatte in un passante e gli chiede per favore per favore aiutami allora lui la indirizza a una stazione di polizia. Tuttavia quando Katie si ritrova davanti alle genti non sa proprio come spiegare la sua situazione sa che risulterebbe folle. Non vuole nemmeno mettere nei guai bala desidera soltanto andarsene quindi l'unica cosa che riesce a dire è sono scappata di casa. Dopo questa confessione purtroppo la fuga non va secondo i suoi piani perché la polizia telefona a bala così che possa andarla a prendere. Ed ecco il triste risvolto che ora devo comunicarvi. Il fallimento della prima fuga deprime così profondamente Katie che la ragazza passerà altri otto lunghissimi anni in quella casa angustiante prima di tentare un'altra mossa. Ma c'è un evento significativo che cambia la vita di Katie in questi otto anni. Trova un fidanzato. Come diamine avrà fatto? Vi chiederete visto che la ragazza deve seguire delle regole rigidissime. In realtà dopo la sua prima fuga bala è intimorito e allenta leggermente le redini del controllo concedendole un po' di libertà in più. Chiariamo non è che ora Katie può uscire di casa quando le pare semplicemente non è più controllata 24 ore su 24 7 giorni su 7. Uno dei suoi vicini un uomo di nome Roddy ogni tanto vede Katie affacciata e inizia a passarle delle lettere segrete attraverso la finestra. I due cominciano a comunicare così tramite lettere. Poi Katie una notte riesce a intrufularsi nella camera da letto di Roddy e in breve tempo si innamora follemente di lui. Stando con Roddy per la prima volta Katie scopre cosa voglia dire avere compagnia e cosa sia l'amore. Presto Katie rimane incinta ed è felicissima perché finalmente sente di avere uno scopo. C'è una vita dentro di lei ma una notte mentre Roddy è nella stanza di Katie. Bala entra nella camera e il sogno di sua figlia si frantuma in mille pezzi. Il leader perde completamente il controllo minaccia Roddy e gli dice che se si fosse azzardato a tornare in quella stanza lo avrebbe ucciso. Appena Roddy se ne va Bala picchia Katie così selvaggiamente da provocarle un avorto spontaneo. Katie e Roddy purtroppo non si rivedranno più ormai terrorizzati. Questa orribile piega che Bala ha dato agli eventi genera un enorme impatto sull'umore di Katie perché tutto le è stato strappato via. Ma alla fine la ragazza ritrova il coraggio per porre fine alla sua prigionia. A questo punto siamo nel 2013 e Katie ormai ha 30 anni e in questo momento quindi abbiamo la stessa età e questa cosa davvero mi mette i brividi. Pensare a una ragazza che non ha mai visto il mondo esterno per 30 anni è assurdo. A lei e alle seguaci del collettivo è stato concesso un privilegio ovvero guardare la televisione. Così un giorno Katie e un adepta di nome Josie mentre guardano il telegiornale vedono apparire sullo schermo della tv un numero di assistenza da contattare se si subiscono abusi domestici. Katie in questo periodo non sta affatto bene in termini di salute ha il diabete non diagnosticato e sta perdendo davvero molto peso. Così chiede a Josie di ricordare il numero di telefono e di aiutarla. Josie non solo memorizza il numero ma dice a Katie che se vuole possono fare quella telefonata insieme. Quando gli operatori dall'altro lato della cornetta ascoltano cosa accade in quella casa entrano immediatamente in azione per salvare Katie e le altre donne. Il 21 novembre 2013 la polizia fa irruzione nella casa di Bala e delle sue adette. Trae in salvo Katie, Josie e Aisha e le mette in custodia protettiva. Arresta finalmente Ravindan Balakrishnan di 73 anni e sua moglie Chandra. Indagati per schiavitù e servitù domestica. Quando la storia della setta giunge all'orecchio dei media e viene diffusa la gente reagisce scioccata. Non riesce a credere che diverse donne siano rimaste imprigionate per così tanto tempo in una casa setta a Londra in una zona piuttosto trafficata. Il caso ovviamente finisce in tribunale e il guru Ravindan Balakrishnan viene accusato di crudeltà sui minori, sequestro di persona, quattro cape di imputazione per violenza e aggressione. Chandra, la moglie del leader, viene rilasciata all'inizio del 2014 in assenza di prove sufficienti per una prospettiva realistica di condanna. Al processo le due donne che erano riuscite a fuggire, Lien e Cindy, prendono la parola per raccontare a tutti cosa è successo in quegli anni vissuti nella setta. Rendono dei resoconti strazianti di come Ravindan le aveva aggredite, prima ogni giorno, poi settimanalmente. Anche Katie si fa coraggio e decide di parlare, ripercorrendo l'orribile calvario che è stata tutta la sua esistenza. Era nata e cresciuta nella setta ed era riuscita a liberarsene dopo ben 30 anni. Katie ha paura che nessuno le creda, perché la sua storia è pazzesca, ha i limiti della realtà, ma la giuria si schiera completamente dalla sua parte, ascoltando attentamente ogni sua parola. Al momento della sentenza, Ravindan Balakrishnan viene giudicato colpevole e condannato a 23 anni dietro le sbarre. Le tre donne sopravvissute alla comune prigione del dispotico leader, Katie, Piugiosi e Aisha, ormai anziane, hanno dovuto lottare per rifarsi un'esistenza. Per Katie affrontare il processo del padre padrone è stato molto duro, perché non sapeva assolutamente nulla del mondo esterno, di come si possa vivere in modo indipendente. Le persone attorno a lei, come gli psicologi che la supportano, concludono che Katie ha una capacità mentale di una bambina di 10 anni, anche se è una trentenne. Quando vede giocattoli o qualcosa che scintilla esclama «Oh, wow!» ancora meravigliata ed è imbarazzata se fa la conoscenza di nuove persone. Rispetto alle sue capacità di svolgere le attività quotidiane come cucinare, pulire e prendersi cura di se stessa, la sua età mentale risulta ancora più bassa, intorno ai 6 o 7 anni. Katie riceve un aiuto prezioso dai servizi di assistenza dedicati e grazie a Dio riesce a ricostruire la sua vita. Frequenta la scuola, si iscrive all'università, trova sua nonna, la mamma di Sean, e instaura con lei un rapporto bellissimo. Katie ora sente finalmente di avere una famiglia. Vive da sole in un appartamento a Leeds, sempre nel Regno Unito, e parla apertamente della sua esperienza nella setta, sperando che la sua storia possa aiutare gli altri. L'8 aprile 2022, Balakrishnan muore in prigione. Ripensando a questa assurda vicenda, sono davvero felice che almeno Katie sia stata in grado di raggiungere così tanti obiettivi una volta fuoriuscita dalla setta. Ho ascoltato molte delle sue interviste e la reputo una donna forte, eloquente, felice e piena di speranza. È riuscita a liberare il suo cuore da ogni traccia di rabbia o di odio, vuole solo andare avanti con la sua vita. Detto questo, io ho finito di parlare di questo caso. L'ho trovato abbastanza pesante perché è assurdo che una bambina non possa fare assolutamente niente e non possa comportarsi come una qualsiasi bambina, cioè Katie non poteva ridere, non poteva correre, è assurdo. E ho deciso di portarvi questo caso anche perché prima di tutto si conclude abbastanza bene, nel senso che Katie riesce poi a rifarsi una vita, ma è incredibile il tempo che è stata rinchiusa in una casa. È stata chiusa in una casa per 30 anni consecutivi, quasi. Quindi secondo me questo caso è davvero davvero tosto e io sono curiosa di sapere che cosa ne pensiate voi. Come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Quindi non vedo l'ora di sentire le vostre opinioni, nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!